ciao a tutti appassionati di hotwills e si ci ho preso gusto ci ho preso proprio gusto a fare video ma devo ringraziare ancora una volta il teddy sembra che sono sponsorizzato da questa catena di supermercati in realtà non è così sono passato per caso non ero convinto di trovare qualcosina avevo un po di ore libere la moto a disposizione e sono andato sono andato e ho trovato un bel po di macchinini siamo praticamente quasi alla fine dei case credo che ne manchino 12 p e q poi sono saranno poi saranno usciti saranno usciti tutti e gli ultimi due sono carichi carichi di belle di belle macchinine allora iniziamo con una fetta di torta infatti questo qui è chiamato birthday burner qui vedete anche ha stilizzato una torta con delle cantine candeline sono 5 in questo caso in realtà questo qui l'ho preso proprio per fare un piccolissimo regalo simpatico e quindi andrà quindi in omaggio a mio padre a mio padre è stata una cosa simpatica sono passato lo l'ho trovata e gliel'ho già praticamente regalata la sto utilizzando proprio per fare questa sorta di unboxing carino devo dire carino è una novità di quest'anno ce ne sono diverse di novità di quest'anno in questa in questa in questa serie e qui vedete la forchetta un motore gigantesco con ben sei tubi di scappamento e non so se questo qui quest'elemento rosso quest'altro elemento rosso hanno una qualche funzione però credo di no credo di no perché girandolo qui non c'è la spiegazione di nulla praticamente qui mostro probabilmente non è solo una mia sono una mia fantasia la mia immaginazione carina sì carina proprio per appunto fare fare un fare un regalo tra l'altro poi questa è la prima che viene prodotta ho visto già la seconda colorazione perché non ricordo poi però se di sempre di quest'anno oppure se già del nuovo anno perché sono sono già uscendo i case siamo già al case b disponibile in in america io li sto vedendo sul sul su youtube quindi potrei confondermi ma sono su qualche proprio di quest'anno e devo dire che la colorazione è ancora più carina rispetto a questa questa hanno utilizzato del cioccolato l'altra è ancora più colorata insomma è una cosa così simpatica la lasciamo lo lasciamo così e passiamo invece subito a una macchina carinissima di 90 gli anni 90 del secolo scorso la nissan 180 sx type x del 1996 e si è già già qualcosa insomma di un po più importante molto bella un unico colore tra l'altro qui abbiamo un accenno di anzi più più di un accenno di grafica e tra virgolette così sul posteriore e anche nella parte anteriore con queste due fasce tra l'altro di colore argento specchiato tra l'altro bello perché ovviamente gli interni sono cromati come la parte inferiore dovrebbe essere quindi in metallo o quantomeno no sembra più metallo la macchinina e questa parte qui in plastica in ogni caso una bella una bell'auto si una bellissima auto prendiamo un'altra fantasy car e questa è la celero gt o celero gt numero 9 due diversi diverse coppie di cerchi quarter my eros questa è abbastanza recente 231 siamo vicini infatti alla conclusione della serie di quest'anno è un bel po di polemiche per questo modellino non è di quest'anno tra l'altro ha un alettone spettacolare questa ricorda praticamente una è una novità della dell'hotwills non ricorda nessuna auto vera però ricorda un po le supercar moderne di questo di questo periodo insomma di questi anni ovviamente insalza otwills di questo modellino che stranamente hanno deciso di utilizzarlo per la supertracerante di quest'anno di una delle supertraceranti quest'anno e questo ha fatto storcere il naso a moltissimi appassionati di otwills effettivamente hanno un po ragione ma comunque l'hanno presa lasciatemi fare una critica ai collezionisti ossessionati dalle supertracerante è un modello che non avrebbero mai acquistato ma solo perché la supertracerante è andato comunque anche questo a ruba con critica bene bravi o invece una un'auto vera da lamborghini huracan sterrato prodotta in tiratura limitata da parte della lamborghini se lo sbaglio 2.500 esemplari in tutto non vorrei confondermi ma dovrebbe essere proprio proprio così tra l'altro il numero 63 è bella tanto bella che per il 2025 ne hanno proposto un'altra colorazione sì devo dire che comunque tutto sommato è un bel modellino poi tra l'altro e come dico sempre è la prima versione io sulle prime versioni investo sempre ok un altro modellino originale della dell'outwills la ravenger st novità di quest'anno e se prima se questa qua ricordava una supercar questo ricorda una muscle car di quelle classiche americane o perlomeno che hanno una grande tradizione in in america e quindi una muscle car con alcuni stilemi delle muscle car di di una volta ma anche comunque moderna date che che figa che è anche in questo caso parliamo appunto di un modello nuovo e quindi curioso poi di vedere anche le nuove colorazioni dei prossimi dei prossimi dei prossimi anni tra l'altro sì qui ci dovrebbe essere come vedete alcune rifiniture in blu ed altre in nero però questa qui sul cofano non è non è a non c'è 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 come ho detto come ho detto da qui mi sembrava che fosse completamente nero invece è presente è presente questa colorazione carina carina sì mi piace o un prototipo si vediamo un prototipo stupendo tra l'altro la cadillac project gtp hypercar novità di quest'anno bella molto molto bella bella soprattutto perché è estremamente grande nell'ultimo video o perlomeno uno degli ultimi video in cui ho portato alcuni acquisti un bel po di acquisti avevo messo alcune supercar che però rispetto a queste sono molto sono molto più piccoline questo è abbastanza importante tra l'altro qui dovrebbe essere un numero 9 almeno credo che sia un numero 9 e ovviamente il cadillac e il cioè il copyright ovviamente la mattel non fa cose fuori 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 age ecco bella bella e credo che siano anche due le versioni anzi adesso che mi ricordo perché ho controllato prima questa è la seconda versione perché aveva nera prima nera la seconda è blu non so se riuscirò a recuperare la prima versione non credo proprio non credo proprio che riuscirò a recuperarla o andiamo invece andiamo invece avanti con un bel modellino la cevi c10 del 67 questa colorazione l'abbiamo già vista in una colorazione chiara questa è quella quella rosa sapevo che usciva forse ne avevo già ne avevo anche già parlato e sono molto contento di averla recuperata tra l'altro perfette le grafiche e sono sono tante sono sono davvero davvero tantissime e piena manca solo praticamente qualcosa qui poi il resto tettuccio il cofano e le due fiancate completamente completamente piene di grafiche bel bel modello sono contento di averlo di averlo trovato ma in realtà sono potente aver trovato praticamente tutto questo benedio e ragazzi ne mancano ancora tantissime andiamo ecco non su questa qua questa qui che la stud baker champ del 63 e in questo caso qui mi ho recuperata una lo scorso anno questa è una vera una macchina vera e infatti vedete vedete che qui è scritto sul bagger champ user under license to mattel in che bella un'altra anzi o forse altre due però quella dell'anno scorso se non sbaglio che appunto non so se ho portato sul canale perché ragazzi non mi ricordo di io come sono attuista dal 2018 non ricordo tutte quelle che ho portato sul canale e quelle invece che ho acquistato prima di iniziare a fare video di hotwills quindi devo controllare non credo però di aver comprato lo stesso modellino almeno quello almeno quello mi sembra mi sembra di non aver fatto questa questa cappellata ma ce ne stanno ancora ancora tante 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 altre l'ultimo modello nuovo anzi no non ce ne stanno un'altra il penultimo modello nuovo di quest'anno la small block un'auto molto molto particolare con la definirebbe anche strana sì forse un po lo è non recuperata principalmente perché ha insomma una linea molto molto particolare e soprattutto il prossimo anno uscirà un'altra auto che non ricordo come si chiama all'inizio ma finisce con block forse big block rispetto a small e ricorda un po questa questo questo modellino che ha praticamente sembra quasi una station vagon perché parte da qui la il tettuccio invece che essere diciamo sì tipo una versione sportiva della di questa serie delle delle block magari ne usciranno diverse nel corso degli anni quindi ho voluto prenderla anche per anche per questo per avere una sorta di collezione nella collezione metallo e poi il resto dovrebbe essere legno non scherzo perché l'effetto sembra quasi come quelle anzi quel modello non so se qualcuno di voi sa cosa mi riferisco quel modello unico che ha un costo scellerato di una mercedes che praticamente tutta il legno ecco magari qualcuno di voi ripeto che appassionato di auto forse ha capito a cosa mi riferisco quindi appunto questa qua sembrava proprio fatta di legno in realtà è plastica e la base per è molto carina perché in metallo io adoro le auto con la plastica con la base in metallo un'altra macchina fuori fuori di testa è la dragmerc del 1949 dovete considerare una cosa per quanto riguarda questo modellino per me è un modellino completamente nuovo tratto qui rolling metal è un modello completamente 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 nuovo sembra fatto sembra una una di quelle di quelle versioni zamac e proprio perché è come ho detto poco poco fa io ho iniziato a collezionare ottobus dal 2018 l'ultima volta che era stata proposta quest'auto era il 2014 quindi veniamo di dieci anni fa non so perché in dieci anni non ne hanno prodotta neanche una né nelle mainline né in altre in altre serie come ad esempio i mystery models dove spesso portano dei modelli diciamo così che è che non vengono più proposti nella mainline e neanche lì era stata proposta tra l'altro è una è una ford è una ford ford motor company quindi una macchina vera è molto 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 particolare parliamo di una moto del 1949 insomma 75 anni anni fa è talmente particolare insomma che per me andava andava presa poi ricordo appunto una una zamac direi che la promuoviamo anche questa ancora un po di cosucce e allora andiamo con la king kuda stupenda abbiamo già visto la versione bianca questa è quella rossa e non ricordo se però anche lì c'era lasso di cuori forse forse sì poi la vedremo in un prossimo video confrontando insomma i due versioni bella di sicuro l'altra non era dorata non aveva i cerchi dorati e non aveva neanche il motore e gli interni dorati ma doveva essere se non sbaglio argentata e bianca nella bella bella ok la 152 di 250 fighissima a qui ovviamente è presente è una una casa ovviamente e mi è sempre piaciuta che ho diverse di questo modellino bella 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 ok andiamo avanti e qui credo ci sono tutti i modelli veri e si ford f 150 negli ultimi mesi ne abbiamo visti diversi di questi modellini la autrice quest'anno si è sbizzarrita con questi modelli tra l'altro e della serie degli anni 90 99 infatti è l'anno di produzione di questo di questa macchina e di ford f50 ne abbiamo viste un paio già sul 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 canale questa è l'f50 s vt lightning appunto del 1999 anche questa la aspettavo di recuperarla perché appunto mi era piaciuto pozzo mi piacciono questi questi pick up e la ford è bravissima a produrli anche questo caso qua poi li vediamo insieme tutti e tre tutte e tre le versioni della della ford f 150 sapere poi qual è la più carina per voi io a me piacciono praticamente praticamente tutte e tre ok un altro recolor la che vi love custom del 72 l'hanno visto una versione sul verde anzi due tonalità di verde una un po più scura un po più o più chiaro queste invece bianca con dei richiami al blu celeste sì un altro appunto modellino come quello che abbiamo appena visto io li trovo li trovo sfiziosissimi questi 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 pick up insomma mi sono sempre mi sono sempre piaciuti e andava preso non ricordo seppure già nel 2025 ne sarà presente un altro perché mi visto già un'altra colorazione di questo di questo tipo o rimangono altri tre modelli e andiamo con la nissan skyline gtr r 33 versione gozilla è la seconda di quest'anno speravo di recuperarla io adoro in particolar modo le skyline la mia anzi le mie preferite sono la 34 e la 35 però insomma è comunque una una nissan skyline e soprattutto è decorata con con la figura di gozilla ora vorrei recuperare anche quelle dello scorso anno credo che siano un po' difficile da recuperare in cui gozilla è presente ma con il raggio con un raggio appunto che riesce dalla dalla bocca e anche quello sarebbe bello da sarebbero da avere comunque potentissimo per queste due versioni di quest'anno che ho preso insomma ho preso entrambe ma anche ancora qualcosina vediamo vediamo l'ultima novità di di quest'anno perlomeno l'ultimo modellino novità di quest'anno di questa di questo video che la porsche 911 rally è stata un'auto prodotta realmente dalla dalla porsche ed è in attiratura limitata credo che forse quindi mi riferivo prima parlando della borghini sterrato credo che siano invece riferiti alla alla porsche che è stata appunto limitata a solo quelli sembrati e carinissima tra l'altro qui sul tettuccio nella foto vediamo una serie di valigie diciamo così e che qui si intravedono e fanno parte dell'auto infatti sono trasparenti fanno fanno parte appunto di tutta questa struttura di specchi l'unotto e parabrezza insomma che tutto un unico unico pezzo in plastica trasparente o semi trasparente perché un po scura carina l'idea belli anche i colori credo che sia dal vivo un bel un bel modellino con questo è possibile fare andare appunto anche sullo sterrato come l'altro modellino della della borghini poi non so chi è il pazzo che effettivamente poi utilizza così o veniamo all'ultimo modello ultimo modello che è uno ragazzi un'altra novità non lo considero tale perché un recolo ma è un'altra novità di quest'anno due delle auto che mi sono piaciute di più quest'anno ma non solo a me anche a tanti collezionisti e l'ai rota l'ai rota merck bella 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 in questa colorazione tra l'altro è un modello che ha avuto un tale successo che per il prossimo anno nel case a la si trova già in un'altra colorazione purple e non solo e la si potrà trovare anche la sua versione super trecerante quindi è piaciuta tanto a ai collezionisti tanto da spingere la mattela appunto a proporre per il prossimo anno anche una super trecerante che non troveremo mai o per lo meno che non troverò mai qui in italia però quantomeno abbiamo la versione quella normale siamo così per i comuni mortali e sarà la terza versione di questo splendido splendido modellino ragazzi quasi 23 minuti io anche per questo il mio l'ho fatto ora tocca a voi lasciatemi commenti fatemi sapere insomma cosa ne pensate di queste serie so che tanti di voi piacciono le 8 quindi me lo dimostrate con i commenti e me lo dimostrate anche con l'aumento degli iscritti siamo vicino vicini ai mille insomma quindi fa davvero molto 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 piacere e niente buona caccia a tutti tedi ovviamente come avete visto dal dal titolo e come vi ho detto all'inizio buona caccia ragazzi buona caccia perché è un momento florido per per otwis anche i toys hanno aumentato le scorte in previsione anche del natale quindi buona caccia buona caccia ciao